Stefano Baldini non sarà una medaglia d'oro olimpica ma il premio Fair Play Menarini è un premio molto importante anche per il valore che porta. I premi sono tutti belli come le medaglie perché ti ricordano che comunque qualcosa di buono hai fatto e hai lasciato. Era tanti anni che dovevo venire, tra l'altro io in queste terre sono venuto a gareggiare spessissimo, addirittura mi sono state date le chiavi della città di Arezzo per le mie scorribande durante la scalata al castello che è una gara che mi è rimasta sempre nel cuore e un premio molto importante per me perché è un riconoscimento anche di aver gareggiato con i giusti valori e il giusto rispetto anche dei miei avversari, quindi Fair Play per me è sempre stato il pane quotidiano e questo premio me lo conferma. Una domanda secca su quel oro olimpico all'Atene 2004, la maratona nel luogo dove la maratona possiamo dire è nata e le Olimpiadi lo stesso. Cosa rimane dopo nove anni? Beh, rimane sicuramente la soddisfazione di essere riuscito ad esprimere nelle due ore più importanti di un quadriennio se non di una carriera sportiva tutto quello che avevo imparato e questo è quello che cerco di spiegare anche ai ragazzi delle nazionali giovanili cioè la differenza tra un buon atleta e un grande atleta è quella di saper tirare fuori il meglio nelle occasioni che contano questo servirà loro anche domani nella vita di tutti i giorni.